Spacciatore arrestato in piazza della stazione ad Arezzo, processato a tempo di record e fuori con l'obbligo di firma. L'uomo è stato trovato in possesso di cocaina e di danaro, probabile provento dell'attività di spaccio. Un uomo è stato arrestato in piazza della Repubblica di fronte alla stazione di Arezzo dagli agenti di polizia con l'ausilio del reparto di prevenzione del crimine di Firenze. L'operazione è stata compiuta nella tarda serata di ieri nel corso di attività di prevenzione sul territorio che si erano concentrate in questo caso sul centro della città aretina. La persona in questione è originale della Tunisia ed è regolare nel territorio e dovrà adesso rispondere dell'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. La zona è quella che destra maggiore allarme sociale per i numerosi episodi avvenuti negli ultimi tempi. Qui gli agenti hanno proceduto alla identificazione dello spacciatore che durante il controllo è stato trovato in possesso di tre involucri termosaldati contenenti cocaina e la somma in danaro di 560 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione della polizia si è poi spostata nell'abitazione della soggetto che come detto è regolare sul territorio italiano. Qui gli operatori di polizia hanno rinvenuto e sequestrato altri due involucri in cellofan trasparente termosaldato dall'appeso complessivo di circa 30 grammi nonché materiale per il confezionamento delle singole dosi ed un bilancino di precisione perfettamente funzionante. La persona in questione dopo essere stata fotosegnalata è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente così come disposto dalla pubblico ministero di turno della locale procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo. È stato trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura di Arezzo in attesa dell'audienza di convalida e del rito direttissimo di questa mattina. Durante la direttissima l'arresto è stato convalidato e sono state applicate le misure cautelari dell'obbligo di firma associato all'obbligo di dimora in attesa del procedimento penale definitivo.